La prima lezione di questo corso di editoria abbiamo pensato di chiamarla un po' banalmente se volete fondare una casa editrice, vogliamo cominciare dall'inizio e abbiamo chiamato qui due fondatori di case editrice romane, Marco Cassini, Minimum Fax, ma ha avuto anche un socio, Daniele Di Gennaro, e Sandro Ferri per le edizioni E.O. ma ha avuto anche lui una serie di compagni di squadra, una serie di soci, Sandra Ozola e così. Ora io non dirò granché sulle due case editrici perché credo che sia l'oggetto della loro relazione capire perché hanno voluto fondare una casa editrice, come la dirigono, come l'hanno strutturata fin qui, credo che sia l'oggetto delle loro relazioni. Però vorrei dire due cose, Minimum Fax e le edizioni E.O. vanno sotto la categoria di piccola e media editoria, ma credo che questo, perché c'è a Roma, l'abbiamo ricordato prima, una fiera della piccola e media editoria, ma credo che questa sia una definizione che a loro spiaccia un poco. E in realtà non convince nemmeno a me. Forse editoria indipendente è più corretto, indipendente vuol dire indipendente dai grandi gruppi editoriali, e già vedete qui che si riproduce nell'editoria una cosa che voi conoscete già, per esempio, nel campo musicale, dove ci sono le grandi case discografiche, no, quelli in inglese si chiamano, le majors e poi gli indipendenti. Che cos'è significa fare editoria indipendente è un'altra delle cose che credo ci diranno oggi. Sono due case editrici che coltivano un dolce e invincibile understatement, venne un abbassamento di toni, toni non gridati, e ve ne accorgete semplicemente se guardate come sono scritte le loro ragioni sociali, dove non ci sono maiuscole. Tuttavia sono in grado di realizzare grandi numeri, per esempio nelle vendite dei libri. Un libro di E.O., L'eleganza del Riccio, della Barberia, è nei primi dieci libri venduti ormai da molto tempo, non è neanche più un best seller, è diventato un long seller. E poi E.O. ha realizzato altri grandi numeri sulle vendite, per esempio nei libri tra gli italiani di Massimo Carlotto, di Elena Ferrante, tra gli stranieri di Alice Sebold, per giungere soltanto agli ultimi successi editoriali. Stessa cosa si può dire di Minimum Fax, che ha fatto un intelligente lavoro, per esempio, sugli esordienti, sui giovani narratori, facendoci conoscere autori di successo immediato, accorché giovani, ma di grandi prospettive, come per esempio Valeria Parrella. Minimum Fax è arrivato al quindicesimo anno di vita, e sono stati anche presi, anche loro, nonostante l'understatement di cui prima, da una frenesia autocelebrativa del tutto comprensibile, che li ha portati a sfornare per la prima volta dei libri in una collana intera di 15 libri, uno per ogni anno, addirittura con una hardcover, cioè in formato cartonato. Naturalmente io non definirò collana, non definirò né hardcover né cartonato, perché ve lo diranno magari loro stessi, e poi lo apprenderete sicuramente nelle lezioni successive. Chi comincia dei due? Comincia Sandro Ferro. Sandro Ferro. Per rispetto dell'anzianità. Grazie Stefano, sembra che hai detto il succo di quello che sono le nostre imprese, questo concetto in particolare dell'indipendenza, a cui teniamo tanto, difficile pure da spiegarsi, però in un mondo ovviamente di grandi ormai concentrazioni, di grandi forze e di grandi poteri, è proprio un motivo di orgoglio, è una passione difendere un'indipendenza, senza essere immodesti, perché poi quello che può fare un editore di libri piccolo è relativo, però è importante il contributo, pensare di avere un contributo indipendente, cioè di non subire pressioni, subirle sì, ma insomma di resistere alle pressioni politiche, economiche del mercato e di continuare a fare quello che si pensa sia giusto fare. Credo che questo ci corrisponda molto sia a EO e a Minimum Fax, due case editrici, tra l'altro romane e non a caso, perché nella geografia, ve lo diranno, penso in tutto questo corso di lezioni, nella geografia editoriale italiana, Roma è tradizionalmente diventata il luogo delle case editrici piccole e indipendenti, perché Milano è il centro dei grandi gruppi editoriali, Mondadori, Rizzoli e così via, e quindi a Roma si sono potute esprimere, nascere, e crescere tante piccole case editrici, tante proprio, che fanno cose diverse, però tutte con molta passione e indipendenza. Allora, la casa editrice, EO, vi dico due parole, perché non credo che molti di voi sanno cos'è, è una casa editrice nata una trentina, anzi trenta anni fa, l'abbiamo fondata io e mia moglie, avevamo pochi anni più di quelli che avete voi adesso, avevamo venticinque anni e io non sapevo sinceramente quasi niente di cos'era un libro, praticamente ero a questi livelli che oggi mi sarebbe stato molto utile sentire le spiegazioni che ho sentito oggi da parte di quelli che ci hanno preceduto, per capire cos'era il libro, che importanza aveva. Io sono cresciuto in una famiglia dove i cento libri c'erano, però non ce n'erano mille o cinquemila, diciamo, nel senso non vengo da una tradizione, da una famiglia del settore editoriale o particolarmente intellettuale, diciamo, penso, una famiglia abbastanza media, normale, come può essere quella della maggioranza di voi o di noi. E tutto un tratto, non so nemmeno bene perché, ancora me lo sto chiedendo, dopo 30 anni abbiamo fatto questa casa editrice. Lo dico con il massimo di sincerità, io vagavo piuttosto perso, ero all'università, anzi mi ero laureato, ma insomma era subito dopo l'università, non sapevo bene cosa fare del futuro, del mio futuro, della mia vita. Mi piacevano i libri, però non ero nemmeno un topo di biblioteca, ne leggevo uno ogni tanto, i libri erano stati molto importanti per me. Alcuni libri, ne avevo letti pochi all'epoca, adesso ne ho letti veramente tanti. All'epoca ne avevo letti pochi, però sentivo che quei pochi che avevano letto mi avevano proprio fatto cambiare, fatto qualcosa di molto importante per me. E quindi senza ragionarci troppo, senza fare indagini di mercato, senza consultarmi troppo, se non con mia moglie, con cui l'ho fatta, abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura senza saperne molto, cioè fondare appunto una casa editrice. Sono passati 30 anni, sono passate tantissime cose, tanta acqua sotto i ponti. È difficile pure raccontare cos'è il mestiere dell'editore, probabilmente voi in queste varie lezioni ne appunto sentirete dalle voci dei vari, perché poi sono tante persone diverse, che hanno tante specializzazioni diverse dentro questo mondo dell'editoria. Vi potrete capire come si forma questo mestiere, a cosa serve. Ecco, io la cosa però stamattina, quando mi sono svegliato, ho pensato, dico, cosa devo raccontare a dei ragazzi degli istituti superiori, diciamo delle scuole superiori, che hanno sentito pochissimo parlare di editoria, sanno appunto cosa sono i libri, ma insomma fanno questo corso. E allora ho buttato giù una cartella, ho scritto così molto spontaneamente, e ve la leggo tutto sommato perché penso che, ecco, può essere una testimonianza un po' di prima mano. Perché mi sono chiesto, sì, io a volte mi capita di fare dei corsi di editoria, anche l'altro giorno ne ho fatto uno nella scuola di scrittura, di Minunfax, così, e rievoco questi trent'anni fa perché noi abbiamo fondato una casa editrice, era specializzata, pensate, nei paesi dell'est europeo quando c'era il comunismo, cioè qualcosa che oggi era come fare una casa editrice sui dinosauri, non so, qualcosa del genere. E cerco di spiegare perché è nata questa casa editrice, poi come si è trasformata in una passione in genere per la letteratura, per gli scrittori stranieri, come abbiamo scoperto, appunto, tanti scrittori importanti stranieri e lanciati in Italia e fatti conoscere, come alcuni ne ha citati prima Stefano, però ho pensato, dico, se faccio questo discorso che rievoca un po' quello che abbiamo fatto, non so quanto passa, quanto si capirà. E poi soprattutto oggi mi sono chiesto, oggi che il mondo è molto diverso da quello di trent'anni fa, che cosa farei se di nuovo avessi venticinque anni adesso e fossi in questa situazione. E mi è venuto da scrivere una cosa così. Trent'anni fa io e Sandra, mia moglie, abbiamo fondato l'edizione Io. Cosa farei oggi se avessi venticinque anni come allora?